In questi ultimi anni si è consumata una rivoluzione radicale del sistema musicale, è cambiato il modo di produrre ed anche il modello di comunicazione, ma alcuni sentimenti non passeranno. Mi ritorno in mente del duo Battisti Mogol e uno di questi ed anche il titolo del Magna Grecia Awards 2023, una kermesse di premiazioni itinerante per la Puglia. Un invito a riflettere sulle radici, sull'importanza di preservare la memoria e mantenerla viva, costruendo oggi il ricordo indelebile che muoverà il domani. Ancora Battisti, il mio canto libero, è il tema della serata andata in scena alla Fondazione Don Uva di Biceglie. Tra i premiati del quinto appuntamento, il giornalista Paolo Giordano. Mogol ma raccontati di questa canzone, è una storia bellissima, quindi mi ritorno in mente è, credo, la cosa migliore da dire per una canzone. C'è una canzone che mi ritorna in mente e una canzone che vince. Sul palco gli ospiti si raccontano spazio alle note, quelle della chitarra imbracciata da Leo Gasman. Penso che i concerti siano importanti proprio anche per conoscersi, per emozionarsi insieme, che non fanno mai male. Al fianco di Leo Gasman a ricevere la terza premiazione della serata, Colombre è uno degli esponenti del panorama artistico contemporaneo. Il tuo punto di vista, in quanto persona, siamo miliardi, penso che comunque se riesci a sviscerarlo, se riesci anche ad ampliarlo, sia comunque degno di essere raccontato.